Lui dà grandi vittorie al suo re. Dio usa benità verso il suo re, ovvero lui concerti grandi vittorie. Dio rivela la sua grande salvezza a chi? Al suo re. Questo re di cui parla sei tu, sono io, noi, perché lui è il re del re, re, e lui afferma e usa benità verso il suo unto, usa benità. Dio rivela la sua salvezza, le sue grandi vittorie a tutti? Sì o no? No. C'è scritto lì, sulla tua Bibbia, sulla mia Bibbia. coloro che lo servono, i suoi unti, colui che è fedele a lui, a questo rivela la sua salvezza e gli concedi grandi vittorie e rivela la sua bontà. Ovvero, tutto che andava male inizia ad andare bene. Tutto ciò che era sconfitto diventa vittoria. Dunque, lui dice, dà grande liberazione al suo re e usa benità verso Davide, suo unto e verso la sua progenie per sempre. Quindi, puoi osservare che le vittorie in questa vita, le quali probabilmente sei uscito dalla Chiesa al fine di raggiungere nel matrimonio, nella salute, nella vita economica, negli studi, e probabilmente non le hai raggiunte, o forse hai raggiunto alcune, ma non grandi vittorie. Perché, secondo il Sacro Testo, questa grande vittoria, o grandi vittorie, che vengono tramite la salvezza e rifletteranno nelle altre aree della tua vita, è proveniente da una unzione. Non è ciò che hai scritto lì? Suo unto. Chi è l'unto? È colui che ha provato, colui che ha materializzato la sua fedeltà, ha materializzato la sua obbedienza. A questo Dio unge, per concedere la salvezza, come anche grandi vittorie.